Come partiamo tutti quanti? Come partiamo tutti quanti? Non l'abbiamo dimenticata nemmeno noi, quindi sarà una partita aperta a tutti i risultati, credo che loro abbiano una squadra importante, con nomi importanti, con giocatori molto importanti, ma noi dalla nostra abbiamo le caratteristiche e la potenzialità per potergli fare male sicuramente. La partita è aperta a tutti i risultati e dopodiché penseremo al Bologna, ma fino a domani sera si penserà solo esclusivamente alla Ternano. Noi abbiamo avuto problemi in due partite, non abbiamo problemi in difesa, in due partite purtroppo abbiamo preso 11 gol, quindi i problemi sono lì in due partite. Nelle altre partite non abbiamo mai avuto problemi in difesa. Io credo che domani la Ternano non sarà una squadra super offensiva, sarà una squadra equilibrata come sempre. Proprio per l'esperienza che hanno avuto con il Livorno non può essere una squadra così. Mi aspetta una squadra equilibrata, con giocatori bravi in fase offensiva, ma altrettanto bravi in fase difensiva. Noi dobbiamo essere altrettanto equilibrati, dobbiamo essere bravi a gestire la partita, le situazioni, i momenti e affondare quando è necessario affondare. Ma non mi pare. Anzi, loro hanno... Non sono assenze? No, assenze no, non sono assenze. Sono giocatori che lui preferisce non fare giocare. Le assenze sono assenze di lunghissima data come Ianse o qualcun altro, ma hanno così tanti giocatori che stanno cambiando, vogliono cambiare. Non so se giocherà a Ceravolo, ma se non gioca a Ceravolo gioca a Bocino. Stiamo parlando di giocatori troppo importanti. Quindi hanno la possibilità di scegliere, ma la primavera assolutamente, dalla primavera non prenderanno nessuno. Tranquillo. Novitanovo non credo che possa essere la partita, perché ancora comunque c'è un problema anche di tesseramento, visto che comunque un ragazzo viene dal campionato polacco, quindi di transfert e di cose varie, ma di questo se ne sta occupando la società. Scozzarella e Basso partiranno con noi, diciamo che sono in una buona fase di recupero, però è difficile ancora il loro impiego, almeno domani se. Lo scorso anno era un'altra vita, un altro campionato, altri giocatori, altra situazione. Dobbiamo andare là, come sempre, cercando di fare il nostro gioco, che magari in questo periodo ci sta venendo meno in trasferta e più in casa. Dobbiamo aspettarci un trapani agguerrito, un trapani volenteroso, con grande voglia, determinazione. E poi il campo dirà la sua, questo non lo sappiamo ancora. Dovremmo anche vedere con quale modulo tattico verranno a giocare loro, la condizione. Tante cose, ci sono tante cose da vedere, non è semplice, però l'anno scorso è tutta un'altra storia. Hai detto bene, loro cercheranno di fare i punti in casa e noi di farli fuori e diciamo le stesse cose di prima. Nel senso che sappiamo che per noi è importante portare i punti a casa, ma sappiamo soprattutto, io, so che deve essere una prestazione importante, indipendentemente dai punti, cioè deve essere una prestazione importante di quelli che magari voglio vedere il secondo tempo di Varese, voglio vedere la partita di grande intensità, di grande sofferenza di Pescara, il secondo tempo di Carpi, la squadra nostra, che comunque piano piano arriverà, anche fuori casa. Sì, abbiamo lavorato in previsione della partita con la Ternana, non abbiamo minimamente pensato al Bologna, non lo possiamo fare, c'è qualche collaboratore che già naturalmente ha scaricato tutti i video, ma dobbiamo pensarci da domani sera in poi, non possiamo pensarci prima perché ci ristoglieremmo dalla concentrazione della Ternana. Saremo fuori domani, rientriamo martedì, perché domani saremo fuori da oggi fino a martedì, perché rientriremo martedì mattina dopo la partita contro il Bologna. In Italia Terni poi ci trasferiremo a Imola e staremo lì fino a... Sì, sì, tranquillo, una settimana normale di lavoro, con qualche acciacco, naturalmente un giorno in meno di recupero rispetto a tutte le altre squadre, ma anche la Ternana così, quindi abbiamo dovuto fare, come dire, tutte forse in infermeria, di scarico e di tante altre situazioni lavorative, però va bene, è normale che anche loro saranno nelle stesse condizioni nostre. È naturale che fare due anticipi di fila non mi piace, non mi piace per niente, però vabbè, è così. Sappiamo come vanno queste cose, quindi accettiamo tutto quanto. D'altra parte anche sia la Ternana che il Bologna avranno lo stesso problema, quindi va bene così.